E' allerta maltempo nel nord Italia. L'arrivo di una perturbazione di origine artica sta portando i primi fiocchi a bassa quota. Dalla Val d'Aosta al Triveneto, precipitazioni previste già a 400 metri d'altezza. Imbiancate alcune zone della Liguria e del Piemonte. A Torino è scattato il piano neve. Colline presidiate con mezzi spandisale e trattori dotati di lame pronti a entrare in azione. Domani scuole chiuse a Mondovì, nel Cuneese. A Milano si è riunita l'unità di crisi per contrastare in tempo la possibile formazione di ghiaccio sulle strade. La protezione civile della Lombardia ha diramato un bollettino di moderata criticità per la provincia di Pavia. Nel nord-est invece si respira un'atmosfera polare. In una conca sperduta del Vicentino a Dolina Campoluzzo la minima è scesa fino a meno 33,9 gradi. Queste le ultime immagini da Asiago. Qui siamo a Tarvisio, in provincia di Udine. Ed ecco Belluno. Le nevicate potranno interessare anche le alture tosco-emiliane. L'allarme in Toscana è da codice giallo per possibili piogge, mareggiate e nevicate sulla dorsale appenninica. Nel weekend temperatura impicchiata nelle regioni settentrionali. Domenica mattina clima sotto zero a causa dell'effetto frigorifero. La massa d'aria a contatto con il manto nevoso si manterrà molto più fresca con risultati da battere i denti.